La questura non è competente a decidere la sussistenza dei motivi umanitari se vi è già una decisione positiva della Commissione Nazionale per il diritto di asilo. La questura deve limitarsi invece a verificare i requisiti ulteriori per il rilascio del permesso di soggiorno ed in particolare che lo straniero non costituisca una minaccia per l'ordine pubblico o non sia stato condannato per uno dei reati previsti dell'articolo 380,1 e 2 del codice di procedura penale o per reati inerenti agli stupefacenti alla libertà sessuale e al favoreggiamento dell'immigrazione o per reati intesi a reclutare persone da destinare alla prostituzione. Ciò posto, in mancanza di elementi che dimostrino l'esercizio dell'attività di prostituzione con modalità scandalose o l'inserimento volontario in un sistema criminale di sfruttamento l'attività in sé non costituisce una minaccia all'ordine pubblico.